Allora dottore, una nuova iniziativa per la città di Spoleto, qual è? Sì, è una nuova iniziativa che stiamo facendo, partirà il 2 di ottobre, è una grossa novità per la nostra città perché praticamente dal lunedì prossimo faremo l'orario continuato. È un servizio dove noi ci stiamo impegnando molto, abbiamo investito parecchio, sarà un bel progetto perché comunque la farmacia sarà disponibile, sarà aperta al pubblico dalle 8.30 della mattina alle 20 e quindi da lunedì al sabato chiaramente anche questa è una novità e per cui stiamo cercando di dare sempre un servizio migliore e maggiore alla nostra clientela e soprattutto a tutta la cittadinanza di Spoleto. Io spero che sia apprezzata, noi ce la metteremo tutta per dare un ottimo servizio come sempre insomma. E gli unici che non l'apprezzeranno sono i virus. Quello sempre. Perché i virus ormai hanno leo ricordate. Hanno leo ricordate con noi. Sempre di meno poi le ore. Sempre di meno, sempre di meno. Grazie mille a tutti. Grazie mille a tutti.